Asia di qua, grazie! Asia, guarda qui! Asia di qua! Asia, gira di un attimo! Col viso! Asia, aspetta che arrivano tutti i vettori! Asia, aspetta che arrivano tutti i vettori! Asia, aspetta che arrivano tutti i vettori! Asia! Asia, finanziario un Asia! Asia, aspetta! Asia, aspetta! Asia, aspetta che devo! l'ha fatto inferno, le tre madri, i tre madri, non l'ho capito ma si differa, regà, quello.